Hanno aperto gli asili comunali, qualcuno è rimasto fuori, però è una situazione tutto sommato tranquilla. Vogliamo spiegare cosa accade per quei genitori dei bambini che non hanno trovato posto negli asili comunali gestiti dal Comune? Ma diciamo che chi non ha trovato posto è perché è voluto rimanere in attesa, ancora in attesa, perché il Comune dopo che ha stilato le graduatorie, dopo il bando, ha comunque ricontattato tutte quelle famiglie per i bambini che erano rimasti appunto a piedi, se possiamo utilizzare questo termine. E ha proposto delle soluzioni alternative, soluzioni alternative che sono state in gran parte accettate da quelle famiglie che erano rimaste e che erano appunto fuori della graduatoria. Poi ci sono anche dei casi di famiglie che non hanno accettato neanche la soluzione alternativa e il Comune addirittura ha proposto loro una sistemazione in quegli asili privati con cui aveva stipulato una convenzione, proponendo anche il pagamento a carico del Comune, quindi dell'ente pubblico, del surplus che l'asilo privato avesse chiesto ovviamente. Molte famiglie hanno comunque accettato, altri invece per un totale di una cinquantina di bambini sono ancora fuori in attesa perché magari la prima scelta, la prima opzione è quella preferita e che quindi per loro, anche per motivi magari di comodità familiare, di comodità lavorativa, intendono perseguire. Questo però comporta un'attesa magari ancora maggiore perché poi non tutti potrebbero trovare posto perché bisogna poi attendere che coloro i quali stanno in graduatorio e ovviamente sono stati scelti per andare in quell'asilo particolare e poi dovrebbero rinunciare. Quindi la situazione è questa. Il Comune credo che abbia fatto un ottimo lavoro, a ciò si aggiunge anche che con le PNRR sono stati già stanziati i fondi perché sono stati accettati ben quattro progetti di costruzione di nuovi asili e quindi io mi auguro che insomma quando poi verranno ultimati anche i lavori, quando inizieranno e quando verranno ultimati i lavori, mi auguro che tutti quanti i ragazzi, i bambini di Pescara e anche che provengono da fuori trovino posto nei nostri asili.